la bella e famosa madonna la famosa e bellissima cantante per eccellenza pensate che ha stupito tutti chiunque nessuno escluso perché vi starete giustamente e doverosamente chiedendo esimi utenti di youtube la risposta è molto semplice e non tarda ad arrivare infatti la bella madonna pensate che ha postato una foto shock così descritta nel web in cui appare seminuda in pieno lockdown avrebbe stupito i fan e quella foto è stata vista notata guardata apprezzata anche dalla famosa figlia di daria reggento ossia asia argento figlia del regista dell'horror per eccellenza la quale addirittura avrebbe scritto ti amo madonna probabilmente in segno di riconoscimento e di riconoscenza una foto che sciocca che turba la foto è una foto appunto in cui si vede madonna diciamo così piuttosto scoperta con lunghi capelli biondi grazie a tutti italia narrato italiano